La bellezza salverà il mondo o no? La bellezza interiore salverà il mondo? Allora sì, la bellezza esteriore in questo momento specifico no, purtroppo quello che appare non è mai quello che c'è al di là, quello che c'è dentro e quindi questa invece è un'epoca in cui sì la bellezza va celebrata ma non credo che ci possa aiutare a salvare il mondo.